Musica Diciamo che vedendo la mia faccia Le impressioni sono abbastanza chiare, stiamo lavorando parecchio, stiamo mettendo benzina nel motore perché il ritiro è importante, siamo un gruppo che sta bene insieme, ci stiamo divertendo e dobbiamo andare avanti così per cercare di fare bene subito all'inizio. Grazie a tutti. I nuovi sono tutti dei ragazzi intelligenti e dei ragazzi comunque disponibili, si sono messi subito in sintonia con noi vecchi, cerchiamo di dirgli magari cos'è giusto e cos'è sbagliato in campo, però sono ragazzi validi con caratteristiche importanti. I nuovi sono ragazzi del 93. Vengo da Genoa dove ho passato due anni, precedentemente giocavo in serie di una scuola vicino a casa, questo ormai è il terzo anno che vivo fuori da casa e non è sicuramente un problema. Mi sono ambientato bene in questo gruppo anche perché penso sia difficile non farlo, quanto sono molto bravi nel farti inserire e nel cercare di tirare fuori il meglio di te in qualunque allenamento. Sì, ho passato il giorno delle visite mediche insieme al team manager che abbiamo fatto un giro per il centro di Reggio Emilia e in generale per la città. Mi sembra una città molto tranquilla dove soprattutto per noi è facile abitarci e fare questo lavoro. Adesso ancora abbiamo trovato una sistemazione dove dovrò andare ad abitare in un appartamento con Carlini. Ancora non sappiamo di preciso dove però comunque mi sembra una zona molto tranquilla dove andremo. Grazie a tutti.